Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cardiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penni. Ballottaggi in primo piano in questa edizione del nostro radiogiornale. Pierluigi Biondi, 43 anni, è infatti il nuovo sindaco dell'Aquila. Ha ribaltato il distacco dell'11% del primo turno, andando a vincere al ballottaggio con il 53,7% delle preferenze e ottenendo 16.410 voti contro i 14.249 del suo sfidante. Siamo stati poco determinati, è stato il commento a caldo di quest'ultimo, il candidato del centrosinistra Merico di Benedetto. Grande festa invece al comitato elettorale di Biondi in centro. Festeggiamo sì, ma non eccessivamente. Da domani saremo subito al lavoro, dalla città ci arriva una grande apertura di credito. Loro avevano un grande esercito, noi siamo stati come i 300 di Leonida alle Termopili, ha detto il nuovo sindaco dell'Aquila, sostenuto dal centrodestra, che vince come centrodestra anche ad Avezzano, mentre Leo Castiglione è il nuovo sindaco di Ortona, anche egli sostenuto dal centrodestra, che dunque ha ottenuto una netta affermazione in questa tornata elettorale, così come avvenuto a livello nazionale. Situazione di emergenza idrica anche in provincia di Teramo a causa della siccità che sta interessando tutta Italia. Il presidente della Ruzzo Rete SPA, Antonio Forlini, ha scritto ai sindaci del Teramano, invitandoli a prendere provvedimenti urgenti per limitare l'uso dell'acqua. Nonostante l'acquedotto abbia previsto una serie di interventi per arginare la fase attuale di criticità, in particolare operando manovre sui tronchi della rete idrica, potrebbero ugualmente verificarsi disagi in alcune zone. Le difficoltà di approvvigionamento dell'acqua potabile, dovute principalmente alle condizioni climatiche, vengono peraltro aggravate dall'abnorme consumo di acqua, spesso al centro di sprechi, e destinata ad usi impropri e diversi da quelli domestici e potabili, fa notare Ruzzo Rete SPA. E nonostante la torrida giornata estiva dalla vetta del Monte Camicia, è arrivato un appello. Salviamo l'acqua del Gran Sasso. Lo ha lanciato il gruppo Rocciatori della Spina di Notaresco, che ha portato uno striscione in vetta nell'ambito delle iniziative di mobilitazione diffusa sui territori per l'acqua del Gran Sasso. Con loro tanti altri attivisti e semplici cittadini che hanno aderito alla mobilitazione per il Gran Sasso, organizzando, nonostante l'AFA, banchetti, flash mob, volantinaggi e iniziative per bambini e incontri informativi in tre province. L'articolo 94 del Testo Unico dell'Ambiente Decreto Legislativo numero 152 del 2006 obbliga le regioni a definire le modalità d'uso dei territori per la protezione delle acque sotterranee importanti ai fini idropotabili e delle relative aree di ricarica. Lo ricorda il forum H2O, che in particolare ricorda questo il comma più significativo, cioè il comma 7. Le zone di protezione devono essere lì delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali che di settore. Come per le valanghe, commenta dopo aver ricordato questo il forum H2O, la regione sta omettendo, cioè non sta facendo da 11 anni rispettare queste regole. Non è un caso di dimenticanza, scrive ancora il forum H2O nella sua nota, fare il proprio dovere significherebbe imporre limiti all'utilizzo attualmente sconsiderato del territorio. All'Italia deve riattivare lo slot Pescara-Fiumicino, rotta fondamentale e strategica per collegamenti internazionali e soprattutto per consentire allo scalo d'Abruzzo di recitare veramente la parte del terzo aeroporto di Roma. Per giungere al risultato, la misura c'è. Chiediamo a Saga, la società che gestisce i servizi a terra, di predisporre gli adeguati incentivi, così come sta avvenendo nel resto d'Italia e come del resto già accade con Ryanair, per consentire ad All'Italia di considerare interessante il nostro territorio. L'ho detto Armando Foschi, membro dell'Associazione Pescara Mi Piace, intervenendo sulla gestione dell'aeroporto di Pescara. Si è concluso con una serata di preghiera e convivialità tra cristiani e musulmani il Ramadan, che venerdì 23 giugno, dopo il tramonto, ha riunito la comunità islamica di Pescara con il Movimento dei Focolari di Pescara e alcuni rappresentanti della comunità di Sant'Egidio. Da diversi anni si va consolidando un rapporto fraterno tra le due realtà, basato sul dialogo della vita attraverso obiettivi comuni, momenti di preghiera per la pace, gesti e momenti di vita quotidiana ed altre iniziative da cui sono nate commissioni di dialogo a livello locale e ultimamente anche interregionale per l'Abruzzo e il Molise. Nel parco della collina in via Tirino a Pescara c'è un'emergenza sicurezza che va affrontata attraverso l'istituzione di un presidio fisso della Polizia Municipale in collaborazione con i nuclei Interforze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ogni pomeriggio l'area verde viene letteralmente occupata da persone che vi bivaccano bevendo fiumi di alcol, danneggiando e producendo sporcizia e rendendo di fatto quel parco inaccessibile ai residenti e alle famiglie, ai bambini e agli anziani. Ho già inviato una lettera urgente al prefetto Francesco Provolo segnalando la problematica e chiedendo un intervento immediato prima che la situazione degeneri al fine di ripristinare sicurezza e tranquillità per centinaia di cittadini. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia e la Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ufficializzando la lettera. Di scena un appuntamento sportivo di grande solidarietà per le zone terremotate del centro Italia. Si terrà giovedì 29 giugno dall'eventi allo stadio adriatico Cornacchia di Pescara. Si tratta di un evento organizzato dall'Associazione Armonie con il patrocinio del Comune di Pescara. Due le squadre che si contenderanno il campo, queste le formazioni anticipate dagli organizzatori. La squadra degli Abruzzo All Stars, capitanata da Modesto Lanci, è composta da personaggi dello sport e dello spettacolo come Marco Papa, Piero Mazzucchetti, Davide Cavuti, Michele Gelsi, Bruno Nobili, Franco Marcheggiani, Gianluca Colonnello, Totò Martorella, Daniele Sebastiani, Dino Zampacorta, Piero Delemonache, Silvano Torrieri, Amedeo Giuliani, Simone Pavone, Marco Ferrari, Toni Nevoso. La squadra sarà guidata da mister Giovanni Galeone. La squadra sfidante è quella invece di Armonie, capitanata da Luigi Abete e Donatella Columbsi, è composta da personaggi dello spettacolo e sportivi Vito, Antonio Liuzzi, Mauro Esposito, Ledyan Memuschai, Emanuele Pesoli, Cristiano e Federico Delgrosso, Raffaele De Rosa, Ferdinando Giordano, Sossio di Uomini e Donne, Veronica Brutti, Stefano Ghilseni, Simone Berardi, Marco Ciannavei e tante altre sorprese guidate da mister Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice. Oggi lunedì 26 giugno la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Nicola della Rocca, a Don Fulvio di Fulvio e a Don Bruno Toscan e buon compleanno a Don Paolo Lembo. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a metà pomeriggio, molto nuvoloso nel tardo pomeriggio e sereno in serata con temperature da 25 a 29 gradi e 20 da deboli a moderati e nelle zone interne cielo sereno fino a metà pomeriggio, poco nuvoloso nel tardo pomeriggio e da sereno poco nuvoloso in serata con temperature da 25 a 29 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia alla console e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A voi tutti, buona giornata. A voi tutti, buona giornata.